Alla luce della pubblicazione del decreto dei percorsi abilitanti si pensa di portare al 20 luglio la data di scioglimento della riserva anziché il 30 giugno, circola questa news. Sinceramente mi sento di dire no, anche perché da quanto abbiamo ricevuto come sindacati, come informativa, il ministero ci ha ricordato che il 30 giugno è un termine di legge per ottenere l'abilitazione e poter poi sciogliere la riserva. Dunque per un procrastinare del termine ci vuole una previsione normativa, non può farla il ministero con un'ordinanza. In più sinceramente non mi sembra neanche utile nel senso che con 20 giorni in più io non credo che le università riescono a fare conseguire quelle abilitazioni che ancora non sono partite e siamo al 24 di aprile, perché stiamo parlando di un paio di mesi di tempo per far conseguire 60 CFU, 36 CFU, 30 CFU e ottenere quindi l'abilitazione in un termine congruo. Sinceramente, ripeto, non abbiamo notizia di queste intenzioni da parte del ministero, ci sembra molto strana come notizia, visto che il termine del 30 giugno è un termine previsto dalla normativa, e inoltre ci sembra anche poco utile perché con 20 giorni in più non si ottiene l'abilitazione. Allargo le braccia perché qua davvero domani mattina può uscire chiunque e sparare date, su questo ormai siamo davvero… Questo l'abbiamo imparato. L'abbiamo appunto imparato anche a nostre spese.